Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta allo yogurt con confettura di ciliegie. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, zucchero, sale, uova, vanillina, olio di semi di girasole, lievito per dolci vanigliato, yogurt alla vaniglia e per farcire yogurt alla vaniglia e confettura di ciliegie. Diamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame. Mettere lo zucchero, le uova, il sale e la vanillina. Azioniamo il bimbi per 10 minuti a velocità 4 senza misurino. Aggiungere lo yogurt l'olio la fecola di patate la farina e il lievito ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 4 versare il composto in uno stampo da 24 centimetri ben imburrato mettere a cucchiaiate lo yogurt e la confettura cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per circa 40-45 minuti. Fare sempre la prova a stecchino. la torta è cotta lasciamo raffreddare completamente prima di servire torta allo yogurt con confettura di ciliegie grazie e alla prossima ricetta e alla prossima ricetta e alla prossima ricetta la prossima ricetta e alla prossima ricetta